Giorno 560. Molte notizie di oggi vengono dalla direzione di Tokmak. Iniziamo con le nuove informazioni disponibili sul disastroso contrattacco russo su Robotine. Come detto ieri, per poter ricatturare le fortificazioni a sud dell'insediamento, i russi hanno tentato un attacco ai fianchi, ma quando sono entrati nel villaggio sono caduti in un'iboscata e sono stati respinti. Alcuni dei più prominenti analisti russi hanno confermato che le forze russe hanno effettivamente lasciato il villaggio, tuttavia hanno anche dichiarato che non fosse per il contrattacco ucraino ma perché i russi avevano ottenuto ciò che volevano, cioè tagliare i rifornimenti al villaggio, e non c'era più motivo di rimanere sotto il costante fuoco degli ucraini. Questa spiegazione non ha molto senso in quanto le vie di rifornimento non sono come cavi che uno può tagliare e andarsene, ma richiedono costante controllo di fuoco per evitare movimenti lungo di esse. Mentre è vero che gli ucraini a sud del villaggio hanno speso diverse ore in un accerchiamento operativo, una volta che i russi se ne sono andati tutto è tornato alla normalità. Ecco perché gli ucraini si sono potuti permettere un'altra ondata di attacchi contro un nuovo Prokopivka. Hanno cominciato a preparare questo attacco già quattro giorni fa, quando le fonti russe riportavano di un'unità meccanizzata che si stava muovendo in profondità nella testa di ponte. Fino ad ora gli ucraini hanno usato i carri come supporto di fuoco a lunga distanza, quindi il fatto che siano stati avvistati a ovest di robotine indica che gli ucraini stanno intensificando le loro operazioni offensive. Video rilasciati di recente mostrano un soldato ucraino che attraversa le posizioni appena catturate. È interessante notare che le parti esterne della rete di trincee non contengono armi, munizioni né cadaveri, mentre l'altro lato ha molte casse di munizioni diverse armi. Ciò significa che l'attacco ha colto i difensori così di sorpresa che appena si sono resi conto della situazione hanno abbandonato le proprie posizioni, cosa confermata dall'autore del video che commenta come a terra ci siano più vestiti che munizioni. In questa direzione gli ucraini stavano combattendo nelle pianure e vicino alla prima linea di difesa, quindi hanno incontrato parecchie mine. Come detto in precedenza, queste erano le uniche difese russe in quanto i russi non si erano preoccupati di costruire trincee o simili. Video rilasciati di recente dalla linea di contatto mostrano chiaramente la densità dei campi minati nella regione, con un combattente che ha trovato 12.000 anticarro e 5.000 antiuomo in una piccola sezione vicina alla strada. Strada lasciata vuota di proposito perché molto probabilmente i russi la tenevano sotto controllo di fuoco ed erano quindi pronti a distruggere il primo veicolo del convoglio costringendo gli altri sui campi minati. Una tattica molto comune che però gli ucraini hanno imparato a contrastare con le telecamere termiche dei droni, cosa che ha portato i russi a cambiare approccio. È stato infatti riportato che un altro tipo di trappola che i russi stanno usando consiste nel seppellire esplosivi nelle strade da far poi esplodere da remoto. Quando i russi vengono informati dell'imminente ritirata seppelliscono fino a mezza tonnellata di napalm che fanno detonare appena il drone da ricognizione nota alle forze ucraine in avvicinamento. Non è però una trappola applicabile ovunque. Non solo richiede tempismo ma anche che i russi sappiano dove è stata piazzata, cosa che può essere difficile tra i campi sterminati che compongono l'Ucraina. L'aria deve infatti avere qualche tipo di indicazione, come un'intersezione o un albero solitario. I ingegneri ucraini stanno al momento cercando aree a rischio e tentano di identificare e desattevare le trappole per tempo. In generale, dopo aver contrastato il contrattacco russo, gli ucraini hanno cominciato a muoversi verso un ovro poco Pivka e dovrebbero attaccare l'insediamento a breve. Le forze russe sono impegnate a rinforzare la regione con i loro migliori carri e i droni ucraini sono già impegnati nel distruggerli insieme ad altro equipaggiamento che entra nella regione. Il famoso battaglione Madiars Birds ha anche cercato di abbattere un elicottero con un drone suicida. E anche se questa volta hanno fallito nel loro intento, questo evento ha già portato diversi analisti a concludere che molto presto i droni ucraini che hanno già provocato enormi danni alle riserve di carri diventeranno anche un sostanziale pericolo per l'aviazione russa. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.